A presto E' una rete che è stata ventilata e alla quale vogliamo tutti molto bene, perché curiamo tutti, cioè tra di noi c'è una comunità che faccia sempre che questa rete possa continuare a dare buoni fronti. La nostra rete che in questi tre anni è cresciuta ed è cresciuta perché abbiamo puntato insieme sulla corresponsabilità e quindi su un percorso comune e un aumento delle responsabilità da parte di tutti coloro che fanno avanti l'impegno di Libera sul territorio. E' nothing else but worthless reminders, what about our broken friendships, now all of us have separate lives, I hate this awkward silence, because it feels like violence. Tear and pass, why did you leave this place, come back, there's so much time left to waste, We found a lot that's changed for the worst and it feels like everything is gone. Tre anni fa c'è stato appunto il cambio di referenza, una referenza importante dopo tanti anni di Davide Mattiello. Due anni fa è esplosa l'operazione Minotauro con tutti gli altri processi collegati che ci hanno portato a conoscere più dal di dentro quale fosse il radicamento dell'andrangheta sul nostro territorio e a vivere anche esperienze nuove nel nostro lotto e nel nostro impegno, come la partecipazione all'udienza e la costituzione di parte civile nel processo. Noi abbiamo cercato di costruire tanto con i limiti che sono naturali in qualsiasi organizzazione, vogliamo continuare su questa strada ma soprattutto vogliamo intensificare il nostro impegno, intensificandola attraverso il rapporto anche con i familiari delle vittime per quanto riguarda la parte della memoria e intensificandola lavorando su quell'area grigia che tanto permette alle mafie di continuare le loro attività e di portare via democrazia, pezzi di economia al nostro paese. Grazie. Grazie.